buona giornata a tutti assegno unico universale mensilità di ottobre come già detto in altri video messaggi ci sono già le date ufficiali da calendario imps e sono 16 17 18 ottobre ma vi ricordo che non sono uguali per tutti perché chi ha fatto nuova domanda nel mese di settembre o ha subito variazioni del proprio nucleo familiare i pagamenti sono previsti per la fine del mese di ottobre poi parliamo di aumenti l'aumento spetta nuclei monogenitoriali che hanno fatto richiesta e alle famiglie che l'altro coniuge dal primo di settembre ha iniziato a lavorare quindi con entrambi i genitori che lavorano e nuclei monogenitoriali avranno l'aumento quindi non è un aumento in merito alla perequazione per quello bisogna attendere l'anno 2025